Oggi a Rivarola un'inaugurazione importante, un progetto importante, uno spazio dedicato ai giovani. Sì, uno spazio adolescenti. La collaborazione stretta tra l'asto 4 nella figura del Dipartimento Materno-Infantile, che ho l'onore di dirigere, con il CIS38 ci ha dato l'opportunità di creare uno spazio adolescenti a Rivarolo. In una location, tra l'altro, particolarmente caratteristica, perché sappiamo che il Parco Malgrà è un luogo di aggregazione dove molti ragazzi si possono trovare. Avere l'opportunità di un luogo in cui si ha la cura dell'adolescente, a mio avviso, nell'ottica dei modelli assistenziali che stiamo promuovendo in ASL, è molto importante. Questo perché la cura non vuol dire solo dedicarsi a delle problematiche ginecologiche, ma vuol dire dedicarsi all'educazione, allo stile di vita, ai comportamenti, andare a intercettare anche quelle che sono le difficoltà che i ragazzi possono avere e che molto spesso non riescono ad esprimere. Come è nato questo progetto, questa iniziativa? È nato dai tavoli dove si è riscontrato un aumento di richiesta da parte dei giovani, richiesta d'aiuto. Io credo che questo centro sia un centro fatto per i giovani, ma i giovani devono essere considerati tutti un po' figli nostri, perché comunque la responsabilità dei giovani ricade su di noi. Dobbiamo accompagnarli in questo percorso verso una comunità che sia una comunità molto legata e che vada verso una società dove si riesca ad ottenere dei miglioramenti rispetto a quelli attuali, dove c'è proprio questa richiesta di stare insieme e di non riuscire a farlo. Perché comunque noi rimproveriamo i giovani che utilizzano il telefonino, ma lo utilizziamo anche noi, che stanno al computer, ma ci stiamo anche noi. Noi ci lamentiamo dei giovani che non stanno insieme, ma anche noi non stiamo insieme a loro. E loro ci lanciano queste richieste di aiuto molto nascoste, che noi non sappiamo neanche più cogliere. E per questo è importante che forse loro, avvicinandosi a un centro che si estraneo alla famiglia, che sentono molto un po' indifferente, riescano ad aprirsi e a trovare dei valori che forse in questo momento ci sembrano un po' smarriti. A che range d'età è rivolto questo servizio e come si potrà accedere? Allora, ai ragazzi di adolescenti, quindi fino ai 18 anni, è all'interno di un centro per le famiglie, quindi come diceva il dottor Bogliatto, il benessere non passa soltanto dal seguire le situazioni, ma passa dal benessere in toto, quindi il benessere psicologico, il benessere fisico, lo stile di vita, allo sport, le problematiche ginecologiche, tutto quello che magari all'interno delle famiglie non si riesce un po' ad esprimere. Questo è uno spazio dedicato alle famiglie e agli adolescenti, quindi siamo tutti pronti ad accoglierli il mercoledì, lo vedrete poi nelle locandine. Ringraziamo soprattutto i fondi di solidarietà comunale che ci arrivano dai comuni per fare questo tipo di intervento, oltre che da Compagnia San Paolo e fondazioni di comunità, cannavese comunità competente, quindi ringraziamo fortemente perché solo con l'aiuto di tutti, anche a livello di risorse economiche, riusciamo a fare queste progettazioni. Rivarolo al centro di un'opportunità per i giovani rivarolesi e cannavesani. Rivarolo da secoli ha una vocazione in ambito educativo. Ora sappiamo che, ahimè, in questi ultimi anni è scoppiata a livello nazionale una vera e propria emergenza educativa, di cui i giovani sono soprattutto vittime, perché purtroppo è il nostro mondo di adulti che ha introdotto nella società una serie di elementi di disturbo per una corretta crescita da parte degli adolescenti. Quindi da un lato ovviamente mi fa molto piacere che Rivarolo ospiti questo tipo di servizio, perché intorno a Rivarolo gravita una realtà adolescenziale importante, dall'altra naturalmente come adulto mi dispiace che risorse importanti per la comunità debbano essere messe a disposizione per correggere delle problematiche che forse con una maggiore attenzione preventiva si sarebbero potute evitare.